Con un convegno organizzato questa mattina a Palazzo Wittmann, la provincia di Bolzano ha voluto commemorare il primo presidente della giunta, Carla Erkert, nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa. Nato nel 1894 a Merano, Erkert è stato il primo landesautman dell'esecutivo provinciale. Un grande mediatore ed una figura di grande spessore intellettuale, come ha ricordato lo storico Hans Heiss, chiamato ad intervenire nel corso del convegno. Carla Erkert ormai è un personaggio purtroppo dimenticato, era il primo presidente della provincia di Bolzano dal 1948 al 1955, fino alla sua tragica scomparsa, appena 60 anni. E' stato importante poiché lui ha accompagnato l'autonomia in una prima fase, soprattutto per merito della sua capacità come amministratore, come giurista qualificato. E' stato abile a creare le basi dell'autonomia a livello amministrativo, ma anche a livello legislativo. Ha dato sicuramente un'impronta importante allo sviluppo di questa prima fase, ancora molto ottimista, prima di Castelfirmiano nel 1957. Chiamati ad intervenire come relatori al convegno, per analizzare la figura di Carla Erkert e il suo agire politico nel contesto storico dell'epoca, anche gli storici Stefan Lechner, Andrea Di Michele ed Eva Pfanz Elter. Presente in sala anche il figlio, Karl Heinz Erkert, e il presidente della provincia, Arno Compaccer. Ricordiamo che allora l'autonomia non funzionava ancora, l'accordo di Parigi è stato attuato sicuramente in modo insufficiente, ma soprattutto c'è stata ancora questa crepa tra chi nelle opzioni aveva optato per la Germania e chi invece aveva deciso di rimanere in Alto Adige. Lui alla fine è stato anche il mediatore tra queste sicuramente posizioni contraposte, è riuscito a ricucire questa situazione e questo era importante anche per la costruzione di un futuro positivo per tutto il territorio.